Berga YouTube ti propone un passo dall'elogio di Elida di Isocrate, uno dei video che sto realizzando sugli autori del quinto anno delicio classico, in particolare ci stiamo occupando della traduzione degli oratori. Ecco, questo è il principio, poche righe di traduzione sono il pretesto per ripetere alcuni costrutti molto frequenti nella lingua greca. Oggi parleremo di participi, di participi congiunti, sostantivati, parleremo dell'uso di autos, dell'accusativo assoluto e anche del participio con valore finale. Credo di aver ricordato tutto, possiamo andare ad incominciare. Come sempre, prima di tutto l'identificazione dei verbi, epanelzuses insieme ad autes è un genitivo assoluto, epanelzuses è un participio auristo secondo da epanercomai, ercomai, eleusomai, elzon e lelitsa e quindi autes è il soggetto del mio genitivo assoluto. Il participio può esprimere un'azione anteriore oppure un'azione considerata puntualmente, quindi ritornando lei oppure essendo lei ritornata. Poi naturalmente aggiustiamo la traduzione. Poi c'è un cai che congiunge il epanelzuses a labuses, un altro participio auristo secondo, sempre femminile genitivo singolare, concordato con autes, quindi il genitivo assoluto è in due tempi, e labuses è da lambano, il cui auristo secondo è elabon e quindi questa è la forma corrispondente del participio. E poi c'è un prostom nesteuestai che è un infinito sostantivato, questa volta un infinito presente, e a questo punto posso dire che il pros dà un valore finale. Dopo la virgola ho un oibasileuontes, cai dinasteuontes, due participi, c'è l'oi davanti, quindi participi sostantivati, coloro che, poi c'è hescon come altro predicato verbale da echo, è un auristo secondo. Vado avanti ancora e trovo un exon che è un accusativo del neutro, del participio di ex eimi, e questa forma del neutro corrisponde ad un accusativo assoluto, non un genitivo assoluto, ma un accusativo assoluto, sta a sé, si regge da solo e da esso, visto il significato essere possibile, dipende poi l'ambanein, che è un infinito presente, e poi proseguo con l'analisi, trovo un tas proteusas, che mi vale come participio sostantivato, proteusas, da proteuo, è un participio presente, qui è declinato all'accusativo femminile e plurale, poi c'è hiperidontes, verbo composto in idontes, riconosco il tema di orao, quindi questo è un composto di orao, il cui indicativo è hiperidon. Ancora abbiamo elzon, ancora un altro auristo secondo, questo è sempre ercomai, come nella prima riga, e infine mnesteusontes, dove quel mnesteusontes, quel sigma, sigma omicron, lo identifico come un participio futuro, con ogni probabilità, un participio che esprime un valore finale. A questo punto possiamo ripercorrere il testo e cercare di comprendere quale sia la costruzione mettendo in ordine i diversi elementi della frase. Abbiamo metà ten catabasin, quindi dopo la discesa, la catabasi, teseos di teseo nell'ade, eis adu, evidentemente c'è un casa, la casa dell'ade sottinteso, abbiamo un epanelzuses autes, essendo lei ritornata a Sparta, questo lei si riferisce ad Elena, dunque possiamo anche esplicitarla, dopo che lei era ritornata a Sparta e labuses elichian, e aveva raggiunto l'età per essere richiesta in sposa, hapantes tutti quanti, hoi basileuontestote, tutti coloro che allora regnavano, e dynasteuontes, ed erano potenti, escon ten auten gnomen per i autes. Questo uso di auten cattura la nostra attenzione, perché è autos, autè, autò, impiegato come aggettivo, ed è preceduto dall'articolo, quindi si dice che è in posizione attributiva. Quando si verifica questa condizione, l'uso di autos sta per idem latino, cioè indica il medesimo lo stesso, coloro che allora regnavano e detenevano il potere, ebbero la medesima opinione per i autes, riguardo a lei. Questo autes invece è sempre autos, ma è da solo, e quindi vale come pronome. Il primo, ten auten gnomen, concorda con gnomen, è aggettivo, questo invece vale come pronome. Infatti, gar, exon, essendo, oppure essendo possibile, a loro, oppure per loro, oppure essendo loro possibile, lambanein, prendere, gynaikas, tas proteusas. Attenzione che il complemento oggetto è questo, prendere, gynaikas, vale come complemento predicativo dell'oggetto. prendere in sposa, tas proteusas, coloro che eccellevano, protos vuol dire primo, quindi proteuo e sono eccellente, entais, attenzione che dobbiamo verificare lo spirito di hauton, vuol dire proprio, e quindi coloro che eccellevano nelle proprie città, hyperidontes tus gamus oicoi, disprezzando, o avendo disprezzato le nozze oicoi, questo oi vale come suffisso per lo stato in luogo, le nozze in casa, helzon, giunsero, mnesteusontes e keinen, per chiedere lei in sposa, meglio che per chiedere quella in sposa. Riformulo tutto quanto, dopo la discesa di Teseo nell'Ade, infatti, dopo che lei era ritornata a Sparta e aveva raggiunto l'età per essere richiesta in sposa, tutti quanti coloro che allora regnavano e ritenevano il potere, ebbero la medesima opinione riguardo a lei. Infatti, pur essendo possibile loro prendere in moglie, ginaicas, coloro che eccellevano nelle proprie città, hyperidontes tus gamus oicoi, trascurando le nozze in casa, le nozze in patria, helzon, giunsero per chiederne la mano, per chiederla in sposa. Questo era un video di Greco, traduzione del quinto anno, dedicato a un passo dell'elogio di Elena di Esocrate. Se il lavoro ti è parso utile, ti chiedo un like, ti chiedo di mettere in atto il passaparola per dare più diffusione al mio lavoro su YouTube, e se non l'avessi ancora fatto, ben arrivato, ben arrivato, iscriviti pure al canale. Intanto, buon lavoro!